Ha preso ufficialmente il via domenica 25 ottobre la stagione agonistica 2015-2016 del settore pallavolo dell'Usbormiese, con le prime partite ufficiali dei campionati FIPA Vander 14 femminile e Andro 19 maschile, alle quali seguiranno a brevissima distanza di tempo gli esordi di tutte le altre categorie, sia femminili che maschili. Una stagione che si prospetta densa agli appuntamenti, ma che certamente vedranno in prima fila la compagine altovolterinese, dato che da quest'anno la società ha un nuovo responsabile tecnico, Matteo Luccarelli, giovane allenatore proveniente da Fano ma con una grande conoscenza alle spalle. Matteo ha infatti un'esperienza decennale come coach specializzato nel settore giovanile, oltre ad essere stato scelto come tecnico in seconda della Nazionale Italiana Volli tra pentati e dializzati, che parteciperà a luglio 2016 ad Elzichi ai campionati europei. La sua presenza quindi non sarà d'aiuto soltanto per le giovani pallavoliste, ma soprattutto per il resto dello staff, che potrà trovare in Matteo una guida capace di uniformare le metodologie di allenamento, di proporre nuove attività e di stimolare l'interesse, la passione, la voglia di maturare e di crescere dell'intero settore. Non a caso, l'Unione Sportiva Bormiese da quattro anni a questa parte promuove nelle scuole l'attività scuola di pallavolo, che porta questa disciplina attraverso allenatori diplomati ISEF all'interno degli istituti scolastici. Un fervore dunque che non smette mai di crescere. Attualmente sono al lavoro ben sette gruppi femminili e due maschili, per un totale di circa 200 tesserati. Infatti per la stagione sportiva 2015-2016, l'Unione Sportiva Bormiese risulta iscritta ai campionati provinciali di tutte le categorie, sia a livello femminile che maschile. E a proposito di squadra maschile, altre grosse e importanti novità della stagione per il comparto sarà la partecipazione ad un vero e proprio campionato interprovinciale, grazie alla disponibilità del Comitato di Bergamo, con numerosi impegni agonistici che garantirà ai giovani del sudalizio alto-valterinese non solo un modo per divertirsi, ma anche per crescere e confrontarsi con le realtà pallavolistiche di fuori provincia.